Non permettete ai politici nazionali di trattare la Sicilia come una cavia. Sono le parole dell'ex premier Matteo Renzi, che ieri ha fatto tappa a Taormina durante il tour in Sicilia per la presentazione del suo libro dal titolo Avanti. Un intervento molto frettoloso, quello del leader del PD, ma non abbastanza da non spendere parole di dialogio verso il candidato del centro-sinistra, Fabrizio Micari, per il quale era stato organizzato l'incontro di ieri a Taormina. È un candidato competente che ha avuto il coraggio di proporsi, ha dichiara Torenzi. Poi, la parola è passata propria all'ormai ex elettore dell'Università di Palermo e candidato alla presidenza della regione, Fabrizio Micari. Ci sono le condizioni per vincere queste elezioni, ha dichiarato. Crediamo ci siano lo spirito e le idee per raggiungere questo risultato. Ho sempre lavorato con i giovani, ha continuato Micari trattando i temi che caratterizzano la sua campagna elettorale. A questi dobbiamo assicurare una prospettiva di lavoro. Non basta la formazione, serve progettualità. A conclusione ha poi rivolto un pensiero al candidato avversario, Claudio Fava. Voglio incontrarlo per confrontarci in termini contenuti e vedere se troviamo punti di convergenza. All'incontro a Taormina rappresenta anche il segretario provinciale del Partito Democratico, Paolo Starvaggi, che ha confermato la sua piena fiducia nella candidatura di Fabrizio Micari. Bisogna parlare alla gente e far conoscere il progetto politico di Micari, figura attorno alla quale si è arrivati ad una sintesi politica. Sono convinto si tratti della scelta giusta.